Tenuta a Sant'Antonio è un'antica e splendida dimora nobiliare settecentesca circondata da 10 ettari di parco secolare. Ogni suo angolo offrirà una cornice di incomparabile bellezza al vostro ricevimento di nozze, che sarà reso esclusivo dai servizi di uno staff attento e disponibile. Gli spazi incantevoli della tenuta si adatteranno alla vostra creatività, all'esigenza in termini di capienza e al fluire delle stagioni. Il terrazzo degli aranci affacciato sul parco potrà essere utilizzato durante la bella stagione e coperto nei mesi più freddi, mentre la corte interna e il parco saranno perfetti per romantici allestimenti all'aperto. Le antiche scuderie a tre navate, dalle atmosfere ricche di fascino e suggestione, aperte sul giardino con grandi finestre, hanno una capienza complessiva di 600 posti a sedere e vi ospiteranno in ogni periodo dell'anno. La foresteria è invece un intimo ambiente per piccoli ricevimenti che ospita anche la suite nuziale. I suggestivi scorci della tenuta saranno inoltre a disposizione degli sposi che desiderano celebrare in loco la cerimonia nuziale, diventando lo spazio esclusivo dove ambientare lo scambio delle promesse. La tenuta Sant'Antonio offre il servizio di wedding planning per l'organizzazione del vostro matrimonio e si occuperà degli allestimenti floreali, delle decorazioni degli spazi, della scelta del tovagliato e di ogni altro servizio che possa rendere il vostro matrimonio l'evento che avete sempre desiderato. Il banchetto di nozze verrà realizzato esclusivamente con ingredienti di prima qualità e con prodotti freschi, per creare un menù di prima scelta, reso ancora più raffinato grazie agli allestimenti eleganti. I vostri invitati a ricevimento resteranno deliziati dai sapori e dai colori dei piatti proposti.